ciao ragazzi bentornati sul mio canale questo è un video spacchettamento fabrelic allora vediamo subito quali prodotti sono arrivati vi ricordo come sempre che fabrelic spedisce i prodotti già imbustati alcuni prodotti addirittura arrivano con diciamo una protezione maggiore tipo un po di cartone attorno con un po di scotch andiamo subito a vedere la prima io comunque già ho tolto il nodo ad ogni busta così per velocizzare lo spacchettamento abbiamo questo primo prodotto che è un rossetto quest'altro prodotto leggiamo bene che cos'è è un elisir per il viso antistress quest'altro invece è un mascara volumizzante abbiamo quest'altro prodotto vediamo leggiamo insieme è un prodotto antirughe c'è anche questo che è un fondotinta e l'ultimo prodotto in questa busta leggiamo che cos'è è un altro rossetto ah dimenticavo abbiamo anche questa bustina con all'interno un campioncino che io ho acquistato per la mia cliente per fargli sentire la profumazione prima di acquistare il profumo perché il profumo costa sui 35 euro e quindi voglio far sentire prima la profumazione poi abbiamo questo prodotto che è un gel doccia per pelli sensibili formato 250 ml abbiamo questo prodotto per digine intima quest'altro prodotto il gel doccia arrivano tutti con lo scotch in modo tale da proteggere il flaccone durante il trasporto all'interno della busta vediamo abbiamo un altro prodotto che questo è un solare latte corpo che va utilizzato dopo la bronzatura 200 ml andiamo a vedere negli altri buste e avviamo qui troviamo questo altro prodotto qui sempre per il sole che è una crema solare latte corpo protezione 20 costano veramente poco questi solari poi abbiamo quest'altro prodotto per digine intima è una crema per la cura delle parti intime da 50 ml nella busta ci sono altre cose si troviamo quest'altro prodotto sempre aloe vera della stessa linea di quello che ho mostrato prima è un latte corpo vediamo l'ultima busta e all'interno troviamo questo prodotto qui ultra condizionatore questo qua è per lavare lavare i vostri panni possiamo fare 30 lavaggi e ne abbiamo due sono degli ammorbidenti bellissimi hanno una bellissima profumazione poi abbiamo l'ultimo prodotto che è questo per il bc nell'ultima busta invece troviamo dei cataloghi comunque ne sono arrivati solo due però ho fatto un altro ordine dove ho ordinato altri cataloghi vedete eccolo qua poi ve lo mostrerò in un video a parte dove lo sfogliamo insieme e vediamo le novità di questo nuovo catalogo ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto lasciate un like iscrivetevi al canale condividete il video con tutti i vostri amici noi come sempre ci rivediamo in un prossimo video con tante altre novità ciao a tutti ragazzi 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 Grazie.